Buone notizie arrivano dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamentola, in merito alla stagione agricola nel bacino del Sosio Verdura. Infatti saranno erogati entro il prossimo mese di settembre ben 300.000 metri cubi di acqua in favore degli agricoltori del bacino Fiume Sosio Verdura. La distribuzione del prezioso liquido autorizzata dalla competente autorità di bacino è stata programmata nel corso di un incontro che si è tenuto ieri al Genio Civile di Agrigento, cui hanno partecipato il responsabile Idro Area del Sud Enel Green Power, l'ingegnere Andrea Girolamo Cicero, l'ingegnere Salvatore Butera dell'Enel, il sindaco di Villa Franca Sigola Domenico Balsamo e una delegazione dell'Aggiunta Comunale di Burgio composta dagli assessori Turrisi e Gudemi, durante l'incontro che fa seguito a un proficuo intervento del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, sono state stabilite le modalità di erogazione dell'acqua proveniente dalla dica Gamma Uta, che sarà rilasciata dalla centrale Enel di San Carlo lungo il fiume Sosio Verdura, seguendo un tracciato che alimenterà l'attingentamento delle acque agli agricoltori del comprensorio che hanno ottenuto l'apposita autorizzazione rilasciata dal Genio Civile di Agrigento. Siamo leti, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamentola, di aver offerto il nostro contributo affinché siano salve le colture stagionali del comprensorio del verdura ricadenti in territorio di Burgio, Caltabellotto e Villa Franca Sigola, comprensorio non alimentato dal Consorzio di Bonifica Agrigento 3, che per collocazione altimetrica dell'impianto può solo garantire la distribuzione idrica delle acque provenienti dalla traversa Favara di Burgio ai terreni del bacino di Verdura ricadenti a valle in un territorio sito a Calamonaci, Ribere e Sciacca. Tutto ciò per la Mendola è stato possibile grazie ai proficui impulsi impressi dal prefetto Cocciufe alla grande collaborazione registrata tra l'autorità di Bacino e le amministrazioni comunali del comprensorio, l'Enel e l'Ufficio del Genio Civile. Proseguono intanto i lavori portati avanti dallo stesso Ufficio del Genio Civile per la pulizia del fiume Sosio Verdura per uno sviluppo complessivo di oltre 20 km, compreso tra la dismessa linea ferroviaria in contrada Verdura, il territorio dei comuni di Sciacca e Ribere e il ponte sulla strada statale 386 a cavallo dei confini tra i comuni di Burgio e Chiusa Sclafani, interessando anche il territorio dei comuni di Calamonaci, Caltabellotto e Villa Franca Sigola. Il progetto impegna complessivamente 6 milioni e mezzo di euro e è stato suddiviso in 5 lotti al fine di consentire all'impresa affidataria di lavorare contemporaneamente accelerando l'esecuzione dei lavori che dovrebbero essersi conclusi almeno per la zona esposta ad esondazioni prima delle piogge invernali. Per evitare ulteriori esondazioni nel tratto del fiume dalla dismessa linea ferroviaria di contrada Verdura alla Foge è importante che vengano realizzati anche i lavori in capo alla protezione civile che sono stati recentemente appaltati.